N.Y.Factory Perché è inutile fare due video separati Ne faccio un unico solo Così appunto avete tutto in un unico video Comunque non perdiamoci in chiacchiere Qua abbiamo quindi Come sbloccare il piccone Della nuova Icon Series L'HatchLan O L'HatchLan non so sinceramente Come Pronunciarlo Allora andiamo quindi sul regolamento Ufficiale quindi dove appunto Abbiamo sempre tutte le nostre varie cose E Appunto 8 novembre per tutte le regioni Quindi inizierà l'8 novembre Allora Sistema di punteggio abbiamo Vittoria reale 70 punti Poi tutte le varie top come potete vedere Ogni eliminazione 3 punti Premi Piccone, Frenesia, L'HatchLan I secondi premi verranno Giusto un giocatore della squadra In basso al topezzamento in classifica Al termine dell'evento Quindi in Europa noi abbiamo sempre Gli oggetti estetici comuni Del suo decorativo Emote, piccone della serie Icon E L'HatchLan Quindi uno Tra l'uno Tra i primi è il 1100 E qua sono tutte le varie cose Ovviamente sempre le varie cose 2FA Tutte queste cose Ovviamente si terrà in teoria L'8 novembre Però comunque ragazzi Perché appunto la skin uscirà all'11 Quindi sicuramente uscirà Questa tornerà l'8 novembre Ovviamente guardate meglio la descrizione Che vi darò poi l'orario Tutto ben approfondito Invece adesso passiamo A Ghost Rider Che è appunto Quello molto molto più recente E quello molto più fresco Come vedete La skin che Di verità non mi piace Non mi piace Ghost Rider Cioè è figo nel film Nelle varie cose Nelle varie cose Nei fumetti Ma con la skin Si Fortnite Non ci hanno completamente Azzeccato Proprio per niente Allora Noi abbiamo quindi Questa competizione Ovviamente Per entrare in gara L'autenticazione Di tutte quelle varie cose Ecco La super competizione Sfreccia Senti bruciare le citazioni Per nuove sfide La super competizione Sfreccia Verso Verso Tre nuovi eventi A novembre Coppa Marvel Misteriose Eroi malvagio Coppie 11 novembre Colpa Misteriose Eroi malvagio Coppie 18 novembre E poi Supercoppa Da un milione Di dollari Coppie 21 novembre Quindi sarà sempre Come più o meno Vedete qua Il 4 novembre Inizia Sarà sempre più o meno Come quello di Daredevil In poche parole Penso Perché è sempre Knockout Marvel In teoria Come potete vedere Qua tutto il sistema Sempre al solito Vedete È praticamente uguale A quello di Lecinen Allora Coppa Ghost Rider Terzetti Vedete Abbiamo quindi Il primo 25 punti Il secondo 20 punti E eccetera eccetera Abbiamo poi I premi Quindi Che si terranno Ovviamente In terzetti E abbiamo I secondi premi Verranno le regalate Ogni squadra E ovviamente Da tre giocatori In basso al suo Potenzialmente In classifica Al termine dell'evento Quindi in Europa Non è come l'Hatchman In Europa Noi avremo Dai mille Cioè dal primo All'ottocentesimo Quindi poi Sempre N.A.S. Sarebbe America In teoria Abbiamo primo Sul cinquecento Sul cinquecentesimo E poi così via Ovviamente poi Magari ve lo faccio leggere Con calma Al solito 2FA E tutte le varie cose Ovviamente qui Nel sito di Epic Games Non è specificato Però l'orario E il giorno preciso Quindi ragazzi State attenti Alla descrizione Mi raccomando Leggete la descrizione Che vi dirò Tutto E appunto Per bene Che sicuramente Le notizie ci saranno In gioco Ragazzi vi ringrazio Per aver guardato Questo brevissimo video Speriamo che vi sia piaciuto E appunto E vi abbia aiutato A capire Il sistema di punteggio Quindi ci vediamo A un prossimo video